Si parla in Consiglio Comunale in questi giorni della questione ACA, da una parte la maggioranza, dall'altra l'opposizione, qual è di Pillo invece la posizione del Movimento 5 Stelle? La posizione del Movimento 5 Stelle è semplice e l'abbiamo illustrata nell'intervento durante il Consiglio Comunale, cioè quella del Partito dell'Acqua che c'è, rimane ed è consolidato anche da quelle che sono le voci del futuro nuovo Consiglio dell'amministratore unico dell'ACA. Purtroppo quella che è stata la gestione da parte di Baldassarre, nonostante ci siano state sicuramente migliorie, ma rimangono comunque delle spese enormi, tipo per esempio 10 milioni di euro spesi per l'energia elettrica o 5 milioni di euro spesi per la gestione dei depuratori come voce generica. Quindi comunque ci sono molte cose da migliorare, rimangono comunque delle passività pesanti e quindi noi speriamo che la ripubblicizzazione dell'ACA come da percorso iniziato nel 2012 possa realmente concretizzarsi con questo nuovo amministratore unico. Secondo voi cosa si dovrebbe fare in futuro per far sì che l'ACA possa davvero funzionare? Bisogna tener conto che c'è stato un referendum nel 2011 che ha sentenziato che l'acqua è pubblica e quindi la gestione deve essere pubblica come sta avvenendo, come è avvenuto in altre città italiane e dove la cosa sta andando bene. Quindi non vedo il perché, non si possa provare, ripeto, portare a termine quel percorso che è iniziato nell'aprile, se non mi ricordo male, del 2012 da parte anche del forum dell'acqua e da parte anche dei sindaci di quel periodo. Grazie. Grazie. Grazie.